Come funziona il motore elettrico? Come il rame ad esempio e dopo con un microscopio, quindi una punta estremamente piccola, nanometrica, sono andati a far sviluppare una corrente di elettroni tra la punta e la superficie andando a indurre un movimento rotazionale della molecola supportata sulla superficie. Qual è la vera novità? Non tanto la tecnica microscopica utilizzata, quindi questo microscopio ad effetto tunnel che appunto crea un tunnel di elettroni fra la punta e la superficie, come se fossero di fatto due conduttori attraverso i quali si sviluppa una tensione. Ma semplicemente hanno immobilizzato due molecole di fatto di identica natura chimica ma sostanzialmente differenti tra loro come le nostre mani. Cioè le nostre mani sono identiche ma non sovrapponibili perché sono di fatto speculari l'una all'altra, si dicono due enantiomeri. Quindi di fatto i nostri colleghi hanno immobilizzato queste due molecole identiche chimicamente ma enantiomeri, quindi immagini speculari tra di loro e con questa punta hanno indotto il movimento della molecola stessa. Cosa c'è di nuovo? Che le molecole, visto che anche la punta era in qualche modo un enantiomero, hanno generato una rotazione di fatto per un 5%, ancora una percentuale molto piccola, ma preferenziale in una sola delle due direzioni, in senso orario piuttosto che anti-orario. E che tipo di applicazioni può avere una tecnologia simile? È chiaro che si tratta di ricerche veramente di base per il momento, però il messaggio è estremamente forte, significa che noi riusciamo con tecniche microscopiche a manipolare le molecole più piccole adattandole ad una superficie e a indurre un movimento nella direzione che vogliamo. Si potrebbe ad esempio pensare al rilascio veicolato e controllato di farmaci, si potrebbe ad esempio a ipotizzare la costruzione di un approccio proprio bottom up di motori sempre più grandi fatti come delle specie di matriosche di tanti di questi piccoli motori. Oppure si può pensare ad esempio a dei muscoli totalmente artificiali, perché alla fine i muscoli non sono altro che molecole che agiscono a livello di meccanica molecolare e quindi macchine molecolari. La questione veramente interessante dei nostri colleghi è che non solo riescono a rendere attivo questo motore con stimoli chimici o con stimoli di natura fotochimica, ma anche elettrica. Cioè l'applicazione di un bias elettrico, quindi di una tensione, genera un movimento proprio come un piccolo motore, ma a livello molecolare. Quindi le applicazioni saranno sicuramente future, ma potrebbero essere rivoluzionarie. E in generale cosa sta facendo la ricerca in questo campo? Sicuramente manipolare la materia a livello nanometrica o addirittura molecolare significa sicuramente avere un controllo pieno sulle proprietà dei materiali, il che significa che l'ingegnere può di fatto costruire in un approccio proprio di natura bottom up il materiale desiderato per l'applicazione opportuna semplicemente controllando come i mattoncini di un lego la giusta posizione delle molecole per ottenere quella determinata funzione. Grazie. 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 Grazie.